Il Presidente Izzos, allora cosa abbiamo domandato agli italiani? Bene, innanzitutto abbiamo chiesto se, dopo il congresso di Verona, abbia senso o meno fare un dibattito su quale sia la forma migliore di famiglia. Lo vediamo con il primo cartello, il 52% non è di questo parere, mentre il 41% ritiene che sia opportuno, anche se, va sottolineato, non ci sono visioni univoche del concetto di famiglia da parte degli italiani. Poi abbiamo chiesto, in relazione alla recessione economica, recessione tecnica nella quale versa il Paese, quali sono le responsabilità e di chi sono le responsabilità. Lo vediamo con il cartello 2. L'atteggiamento è abbastanza benevolo nei confronti del Governo, perché il 51% dei rispondenti ritiene che la causa della recessione sia soprattutto derivante dalla congiuntura internazionale. e soltanto un italiano su tre ritiene che sia responsabilità di un Governo considerato inadeguato. Il 17% non si esprime. Da ultimo abbiamo chiesto un parere sul Governo Conte, abbiamo chiesto se è giunto alla fine al Capolina oppure no. Lo vediamo con il terzo cartello e il 60% degli italiani ritiene che non sia affatto giunto al Capolina, mentre un italiano su quattro si pensa che sia esaurita l'esperienza di Governo. Grazie.